Vai! 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 Vai allaAaAaAa Tutti Guodbe! In fondo mi sta muy 29$ Un burrito che ti porca una tele...una telecamera, una quarta Cioè...come in genere dal sottoscritto e fallon! Aspettate...aspettate...calate un minuto Calate nante che pia... Aspettate ​ Fagiti una telefonata, una cosa. Ma tu qui su televisore che ti porta, non ti stanchi? No, è giusto. Ti sta facendo i bici, mi devi dire. Già, sei su internet. Pronto si frangere? Oh, piccola, ti alzare le mani come poco fa, che poi noi diciamo ce la... ce la... come si dice in inglese? Ce la spacchiamo su Facebook. In inglese non so come si dice. Poi già in un secondo vedo quasi oscuro. Ah, senti vedi.